Ora il soprano Daniela De Sì ci fa ascoltare un brano inedito. Il brano è stato composto ed è dedicato ai genitori di Daniela, Angelo e Clementina De Sì. L'autore del brano è il maestro Fabio Armigliato. Ascolti a Puglietti, anni stai lì. Grazie a tutti. Ascolti a Puglietti 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 Ascolti a Puglietti